sì la vedo su una carrozza su un carro dietro a questo cassone di legno quadrato dove ci sono dentro tutte le sue cose diciamo i suoi aspetti le sue caratteristiche ci sono questi due cavalli bianchi davanti leva a tutta velocità perché deve portare queste se stessa diciamo tutte le sue caratteristiche le peculiarità in un posto ma è come se non riuscissimo a arrivarci ok come si chiama il primo cavallo bianco quello che lei vede la sua sinistra tors e l'altro dick ok elena vai a fare un giro come se tu fossi un batterio un batterio diciamo dentro al cavallo torfo allora c'è questa caverna al posto dello sto quando lei arriva allo stomaco c'è questa caverna che va verso il basso che non finisce mai come se fosse un pozzo infinito nella roccia scavato nella roccia questo dentro torf se e dentro la dick ci sono tre jolly joker tre giullari che ridendo e con battute diciamo con aforismi raccontano la vita di claudia vibrazione di claudia seconda sessione 13 miliardi consapevolezza 134 anima 39 vite precedenti 1811 cervello 8.8 e un nuovo livello suscettibilità ipnotica sul cento per cento 50 per cento ok potrebbe portare a casa una una sessione di ipnosi se togliesse allora potrebbe tranquillamente portarla se lei non fosse convinta di non riuscirci basterebbe solo quello in quel caso salirebbe la percentuale all 80 beh io lo possiamo già dire adesso ci riuscirà salita l'ottanta sì 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 vediamo quello in 86 entità eteriche interferenze due uomini del tempo proprio presenti sempre poi c'è questo allora la testa da grillo però il corpo tipo umanoide tutto nero ed è affatto come se fosse su una balaustra su un muretto di un balcone dove dietro c'è secondo universo e lui si affaccia sul primo universo così un grillo secondo universo a nero se ventone sì sì e poi c'è un falconiforme bastano tanti anni che non so in tanto tempo che non si arriva cosa fa il falco non fa finta di di beccare per terra fa finta di prendere col becco delle cose appena sotto il primo strato di terra ma man mano si fa finta perché è una scusa per avanzare piano piano lo scopo è allora se da come se gli uomini del tempo dicessero di intervenire quando se claudia dovesse riuscire in qualche maniera bypassare il loro controllo quindi beccandola lei metterico se sente dolore e torna indietro quando rispetto alla prima sessione è tornato dopo quanto è tornato il è arrivato il falco dopo due mesi gli uomini del tempo se sono arrivati insieme sono arrivati molto presto dopo poco perché li vedo collegati al suo amico il grillo non è tanto che c'è tipo un mese mezzo due c'è una situazione legata al suo ex ambito di lavoro che ha portato dirlo claudia posso dirlo che la chiesa tua c'è tutto un ambito con un gruppo di lavoro di persone che lei ancora frequenta che conosce da quando lavorava dove c'è stato un aggancio di qualche tipo diciamo che lei si è fatta coinvolgere tra virgolette coinvolgere nel senso si è interessata di una certa parte di una certa lavoro così che lei diciamo come sedesse degli spunti no per sua curiosità per sopra le piace comunque questa cosa fossi gli spunti sì esatto e c'è un aggancio in quell'ambito lì ci sono un paio di persone che la tirano giù mi viene da dirti che è proprio legata se la sua vibrazione si abbassano molto così come se lei si sentisse il giochiere si risucchiata si anticipiamo già adesso che l'obiettivo della nostra vita non è andare a morire miti per non essere interferiti da nessuno come peraltro vorrebbe qualcuno lo suggerisce qualcuno siamo continuamente a contatto con persone con interferenze di ogni tipo entità di ogni tipo se si va al bar si prende un caffè e barista è interferito per motivi il caffè interferito essere si vuole sì se si vive nel terrore delle interferenze ci saranno tanti di quei problemi nella nostra vita che non avete nemmeno idea se ve ne fottete e costruite il vostro presente di giorno in giorno e di ora in ora nella direzione in cui volete andare potete anche avere solo amici tossici che prima o poi in qualche modo avranno meno rapporti con voi sempre di meno eccetera bene l'entità mentale ci sono sì allora ce n'è una identità di livello 3 che si chiama self control che diciamo un finto self control nel senso che è l'idea che gli viene diciamo messa davanti che per lei non c'è la persona giusta e quindi si deve accontentare di quello che arriva è come se ci fosse una barriera questa entità mentale in collaborazione con gli uomini del tempo come se mettessero un soffitto ok che si chiama il soffitto si chiama persona ideale ok c'è da dalla parte verso il cercio scritto persona ideale e qui sotto c'è scritto persona attuale ok e in mezzo c'è proprio un confine c'è il soffitto c'è del cemento tra virgolette quindi finché lei è convinta di questa cosa non riuscirà a trovare invece la sua persona che livello è questa è però ci sono altre c'è questa città mentale più o sì livello 34 nuvola immaginaria la chiamerei perché è proprio come se fosse del fumo bianco no che crea una nuvola sopra dove fa sì che claudia abbia dei pensieri di realizzazione ok e sì in qualche modo lei si limita a vivere in questi pensieri sentendosi diciamo insicura insicure quindi pensando di non poter invece andare a cercare la concretezza di quello che lei vuole di non essere in grado quindi nuvola immaginaria sì nuvola immaginaria va bene chiamiamo chiamiamo subito l'amica di cui non ricordo il nome perché è mancato tanti anni fa è andata dopo cena a riposarsi ed è morto tale aureo la chiamiamo subito sì sì arrivata è molto stupita di essere stata chiamata da claudia dov'è adesso allora dice per molto tempo è rimasta incastrata lì quindi continuava a pensare di vivere era in un loop diciamo era in un loop dove lei si svegliava e vedeva quella situazione dove non la vedevano quindi e poi si svegliava per si svegliava era in un loop così poi un certo punto ha iniziato a vedere che non era presente ma è incastrata in una situazione come se le volesse come se le dovesse riuscire a trovare il modo per o di entrare uscire come se fosse incastrata in una stanza e non c'è la via di uscita continua a girare ok sono passati tanti anni tanto che claudio non ricorda nemmeno il nome di questa ragazza cosa in un disincarnato fa cambiare la percezione il tempo quindi sono soggetti al tempo se sono nella dimensione terrene se ne vanno diciamo che se ci può essere una situazione in cui percepiscono qualcosa di diverso rispetto al loop dove sono e quindi cambiano la situazione in cui si trovano è raro che riescano a staccarsi autonomamente proprio dal dai loop della vita in cui vivevano qualche emozione o una qualche situazione però se per caso colgono anche in quel momento li colgono ma qualcosa una vibrazione o un particolare che gli indica diciamo un posto diverso dall'essere bloccati nel loop allora riescono a fare il passaggio essere consapevoli di essere proprio morti ecco cosa vuol dire questa ragazza a noi in generale oa claudia una situazione un po strana nel senso che lei proprio non se lo aspettava è come se fosse il particolare che l'ha fatta risvegliare claudia ecco quindi gratitudine prova gratitudine i confronti di claudia e ringrazia del lavoro che facciamo la salutiamo va nel portale paura se lo chiudiamo via avremo però adesso le porte del cinema invitiamo tutti quelli che vogliono venire per esempio tutti quelli della famiglia di claudia se vengono e il famoso amico omosessuale ma sono arrivati i nipoti come se volessero aiuto dalla zia consigli sono venuti proprio a vedere se dalla zia possono avere degli spunti per stare meglio dicono solo i nipoti se compagno già compagno sì 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 bene causa esoterica elena del fatto che claudia lo ha chiamato compagno non sono mai stati compagni è sempre stato dichiaratamente omosessuale hanno un'intesa molto forte fanno lo stesso lavoro facevano fanno è una persona che si collega molto al punto in cui claudia sostiene che appunto quando da sempre si avvicina a un uomo richiamata da un intento spirituale non viene mai ricambiata e quindi ritorna nella solitudine cause del terreno fatto lo chiama compagno e non dico compagno di vita no infatti compagno perché è come se lei sentendo questa cosa si legasse si sentisse siamo in dovere di legarsi a questa persona come se fosse monogama no e quindi non si sente nella posizione di poter avere delle storie vere perché è legata come se fosse legata sentimentalmente a questa persona e teoricamente da lì arriva ci sono gli uomini del tempo ok che c'è in questo caso visto che loro sono molto affine vanno molto d'accordo si premurano bene che l'estia incastrata lì ok se andiamo oltre vedo che c'è un filo che parte da claudia passa attraverso questo suo amico ok e va oltre e c'è come se ci vedo che continua e va come se andasse in alto e in alto c'è tipo un'entità che sembra una nuvola grigia è legata a lui è però è quel l'aggancio con cui lui ha incastrato tra virgolette claudia ok c questa entità che una nuvola grigia che a dir la verità mi fa vedere oltre mi fa vedere zeus e questa nuvola si chiama zanos salta fuori solo adesso che in realtà in passato hanno avuto anche proprio una mezza relazione è rimasta incinta e ha voluto abortire dov'è questo aborto c'è stata una discesa della ps no in realtà è proprio il meccanismo con cui è stata adesso che andiamo a vedere questo è l'aggancio con cui è stata agganciata claudia da questo amico c'è la relazione proprio anche fisica no l'aborto non vedono la ps non c'era ancora la vecchia sessione di claudia e aliena se volete andatevele a vedere abbiamo tolto il grosso ah sì l'avevamo visto oggi vediamo il resto il nuovo progetto o comunque il progetto che c'era già probabilmente ma che si può vedere solo una seconda sessione come si chiama coda di scorpione c'è proprio questa sequenza diciamo fila dove c'è claudia c'è l'eventuale uomo che la aggancia spiritualmente emotivamente poi la coda continua con gli uomini del tempo e se si avvicina qualcos'altro viene pizzicata proprio dalla coda del serpente del scopo che lo scopo che è uno scorpione va bene il compagno viene nel compagno di nuovo il che sì 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 coga e viene come dove ma è in prima fila in prima fila ha già visto alcune cose che lo riguardano possiamo analizzare perché interferiscono con claudia come reagisce a tal proposito è anche lui si sente limitato che lui si sente agganciato diciamo che forse lo percepisce meno e forse percepisce claudia più come una sorella su cui appoggiarsi però diciamo da un certo punto di vista si sente un po limitato a vedere l'aggancio vediamo un po di cause esoteriche claudia si presenta con dietro un salottino un quadro e un dipinto appunto con una donna nuda che guarda verso di noi e che si abbraccia le ginocchia seduta causa esoterica di questo dipinto se c'è quello che mi viene è la parte deperita asciutta senza nutrimento assorbita ecco di claudia è quella un po affaticata e stanca che vorrebbe invece essere più più prestante fisicamente più forte più anche la posizione così è in una posizione dove lì non spreco di energie mi fa vedere la sua ricerca del cibo questa dipendenza che diceva dal cibo e proprio questa esigenza di riuscire a ripristinare una prestanza fisica adatta a affrontare il mondo questa la sì sono già sì ma quando vedevo ancora prima che tu dicessi del quadro prima quella quella figura era proprio la parte che viene risucchiata da queste sue idee è come se claudio avesse delle aspettative no di arrivo dei desideri di arrivo ok persone conti verso cui lei continua a correre con i cavalli per perché pensa di arrivarci prima ma uno spreco inutile di energia perché non ci arriva mai quindi vi è proprio risucchiata da queste aspettative no e non si sente all'altezza non si sente adeguata neanche prestante a sufficienza per arrivarci e quindi questo aggancio con il cibo proprio come se fosse un'esigenza di poter essere più prestante fisicamente per arrivare il cibo dipendenza del cibo riempirsi senza un senso di vuoto si è come se gli mancasse proprio come se gli mancasse proprio la struttura per arrivare quando ha avuto inizio questo senso di vuoto da vivere più o meno intorno all'età di 7 8 anni e fa vedere come se si fosse sentita sola già da lì sicuramente non hai visto credo quella sessione la in effetti c'è tutto un rapporto con una madre distante e un buon rapporto con una madre data che la ha badato fin da piccola quanto questa data è mancata dopo poco nel senso mancata nel senso non c'era più neanche in casa c'è stata per un po mi sembra che una maggiore età minimo no anche qualcosina di più e poi ha passato tutta la vita con voi no e poi è morta di vecchiaia avevamo già trattata nell'altra sessione mi sa quindi causa esoterica elena dei problemi economici allora ti descrivo quello che mi fa vedere come se all'interica come se lei avesse un limite un limite addirittura molto stagno c'è quasi una contenuta stagna un metallo molto pesante in eterico si vede no che la circonda che fino a lì diciamo i soldi che arrivano fino a lì fino a coprirsi le spese per diciamo le spese vive quelle per sopravvivere ok lei ne ha diritto i soldi che superano questo limite svaniscono svaniscono perché non sono di suo diritto chi l'ha deciso bella deciso claudia quando ha iniziato a essere e che quasi cresce questa idea in testa visto che non esiste in un gioco virtuale nessun limite essere inserisce lei è quasi come se la libertà economica facesse in modo che lei non avrebbe più scuse se lei fosse libera economicamente non avrebbe più scuse per cambiare la sua vita questo è la la convinzione inconscia e quindi è quasi come se il nuovo facesse paura e quindi con le ristrettezze rimane diciamo nella sua routine e le sue abitudini nelle sue cose salde e il nuovo visto che è non economicamente accessibile non è necessario esaggia causa esoterica della lunga vendita di un immobile legato vabbè fotovoltaico ma comunque di una lunga vendita che non si conclude e che potrebbe sanare tutto in parte i problemi economici ma lei è proprio sicura che quella cosa la vuole lasciare andare è come se la casa si ha questa proprietà non c'è in eterico vedo che c'è come queste c'è questa immagine come un bimbo che si sente in dovere di prestare la macchinina al suo amico ma quando gliela sta per dare con l'altra mano la tiene un po ok in eterico appare così appare come se ci fosse il modellino di questo terreno ok che claudia ha in mano e la sta dando lo sta dando all'altro proprietario mentre glielo da però gli angoli ritiene belli stretti quindi è come se ci fosse qualcosa che dentro di lei non lo vuol lasciare andare del tutto come whoopi goldberg nel film sister act che non lascia andare l'assegno si da un 2 milioni di euro che lo tiene ok fiamma o anima gemella esiste allora mi fa proprio vedere questa scena dove c'è questa scatola di legno abbastanza piatta ma larga ok dove mette dentro tutte le sue cose mette dentro c'è anche il terreno mette dentro la sua relazione di amicizia la casa dove sta le sue abitudini quindi è come se dice come se ci fosse la giornata no come se ci fosse un cerchio con la giornata disegnata e la mette in questa scatola chiude la scatola la spinge e si gira dall'altra parte quando si gira dall'altra parte lì davanti c'è un uomo che è la sua potenziale fiamma anime gemelle tra tra lei e la fiamma di fianco a destra a sinistra ci sono tre o quattro altri uomini che sono proprio le anime affini gemelle nel percorso ce le può scegliere o il percorso dritto oppure quello più a zigo zago prima di arrivare la ma deve chiudere la scatola ci sono parecchie cose che devono deve chiudere claudia adesso mi scrive che il terreno al terreno sono legati molti ricordi di infanzia fatti sono chiusi quelli altrimenti il treno non si deve chiudere con l'amico omosessuale con cui ha avuto un pasticcio di mezza relazione ma che di fatto è omosessuale è omosessuale fine deve chiudere con l'idea perché qual è la causa esoterica del fatto che chiede la fiamma e incarnata o disincarnata claudia è forse una semi creatrice allora potenzialmente come tutti è una creatrice totale o se si parziale totale a meno che non rimane nella nella paura del nuovo ma allora a quel punto lì e solo può rimanere con la sua entità mentale nuvole immaginaria facciamo un gioco facciamo una classe a scuola c'è claudia la cattedra la lavagna insegnante e mi dici dove è seduta la claudia di adesso e ci sono altre 19 studenti studentesse x diciamo che più si è seduti avanti vicini alla lavagna più si è bravi con questo questa convenzione dove è seduta claudia dove si siede dicessi quanti alla lavagna più di avanti alla lavagna più si è bravi lei era già seduta proprio di fronte alla cattedra scusate proprio di fronte alla cattedra quindi lei la prima della classe si bene gli altri 19 sono altre claudie in altre linee temporali quelle che hanno chiuso con le cose che non servono più quelle che sono anche arrivate a vendere addirittura la proprietà in cui abita e sono andati a vivere in australia grondi in argentina in messico in un'isola perché ce ne avevano voglia lasciando peraltro una zona dove lei abita piena zeppa di roba bella ma piena zeppa di roba e piena zeppa elena quel lago ci sono questa c'è una claudia folle che se n'è andata a vivere altrove questo non vuol dire che credo altrove ma c'è l'incrasse se ce n'è una ok è più prima della classe o meno prima della classe di claudia ma in realtà appunto stavo guardando questa cosa ma poi un certo punto man mano che le analizziamo si soprappongono c'è come se fossero tutte no come se ci fosse una tutta immagine sovrapposte perché sono tutte prime della classe nel senso che sono esperienze diverse di claudie diverse che sono tutti la stessa claudia quindi si sovrappongono proprio al centro davanti alla cattedra quindi vedi come degli ologrammi che si tolgono si mettono si passano prima man mano che le chiamiamo no passa davanti uno l'altra ma sono tutte sedute proprio lì come come se fossero appunto una sovrapposta all'altra quindi cosa trattiene claudia dal diventare la claudia prima della classe è solo le sue entità che si è creata che creano limiti per paura di non riuscire per paura di rimanere sola per paura di essere giudicata e quindi rimanere sola insomma scusa sì sì colpita al cuore povera claudia che adesso mi ha appena scritto sempre pensate di andare via ma ci sono i tre cani scusa tre cani che determinano la tua vita non esiste nemmeno scritto purtroppo esiste nella mente dei proprietari di cani che ogni tanto perdono un attimo il senso della realtà perché i cani intorno ai cani gira al mondo ma non è così i cani sono cani sono animali ma sono piacere possono non piacere sono animali punto si adattano si spostano possono essere trasportati attraverso un aereo oppure si fa un viaggio in macchina si può andare a vivere dove si vuole anche siano che si hanno 100 cani scuse scuse adesso io chiedo una cosa la psd claudia vuole l'anima gemella allora dici sì ma con calma quindi preferirebbe la via azigozaco bene claudio ci chiedeva gli esercizi facciamo chiediamo alla ps gli esercizi di claudia per iniziamo a migliorare il rapporto con la ps e per raggiungere questo obiettivo direi relazione allora la prima cosa che mi fa vedere che lei può utilizzare come attività meditativa tra virgolette per alzare le sue vibrazioni è come se lei costruisse come se dovesse costruire dei modellini 3d con con i legnetti con dei legnetti che trova in natura proprio a livello di allenamento no allenamento vibrazionale mi fa vedere lei che costruisce questi temi e questi modellini 3d con i legnetti presi nel bosco quindi andare nel bosco prenderli e lavorarli fare trova un ruscelletto e fa un ponte con i legnetti sopra si fa una casetta per uccelli con i legnetti e la pende è un architetto se infatti proprio anche divertirsi perché vedo che ha il divertimento comunque lei nel comunque fare il suo lavoro le è sempre piaciuto è proprio questo legame con la costruzione degli edifici e delle cose è un esercizio solo può portare è una forma c'è una formula non è deve fare questo è un'idea è un'idea che poi con l'idea magari a poi nominare su quello che che si sente di fare c'è come dire lo spirito del suo lavoro che è lo spirito di claudia costruire fisicamente cose che non sono una volta con l'anno dimore oggi sono cose giochi dimori per uccellini si va bene ma anche ponti che poi si sa al primo temporale cadono e che comunque non serviva a nessuno no quel ponte non sa mai riscogliato il ponte sul loro scellino sull'uscelletto oppure che vana cos'è la spada la no lì che va non è la composizione di fiori assesse la catana si diceva c'è forse un'altra come un altro no è la l'arte di costruire maniera armonica un un insieme un vaso di fiori un mezzo di fiori una composizione anche viva quindi assesi ok latino roccioso anche anche giardini magari si può essere un'altra cosa no che può fare c'è comunque costruire con la natura ecco diciamo il senso più in generale questa cosa qua e questo fa sì che lei si dice che lei si alleni proprio a essere centrata nel senso a sentirsi dentro a sentire che le sue vibrazioni si alzano e possono essere utilizzate per creare quello che le vuole e poi in quale altro campo si può spaziare nel caso di claudia ti faccio ti semplifico la vita ti faccio alcune domande sino musica più per alleggerirsi pensieri cantando delle canzoni che sente ballo danza vedo è come se avete un po frene come se non riesce a stare alta la vedo troppo impaziente ecco per imparare un ballo se fosse ballo libero che ne so che va a ballare quando ci sono delle serate così allora si sposto contatto con l'acqua mi fa vedere tipo un nuotare si piscina oppure anche con la canoe d'estate così volare no se non è per spostarsi con l'aereo non la vedo volare a tai chi le fa bene sì però vedo che c'è lei riesce a starci se gruppo piccolo perché se è come se lei dovesse se passi deve pazientare troppo è come se fosse lì che freme ok questo potrebbe essere che con il tai chi che comunque con man mano che va avanti con la sua centratura riesce a essere più paziente ok ci sono elena delle vite precedenti tra lei e l'amico allora non padre e figlio chi padre padre da lui e figlio lei diciamo che il legame che claudia in questa vita con lui è un po simile come se fosse stato riagganciato quel legame lì di supporto di consigliere di sostegno e quindi è come se lui per lei fosse la sua famiglia d'origine ecco quella famiglia che un po che lei non ha avuto se non fosse per la tata è come se e non solo lui anche anche se ha avuto altre altri agganci con altri uomini che poi non con cui non ha avuto non è stata corrisposta sempre ne vedo altri 23 con cui ha avuto un legame di sostegno familiare in altre vite quindi come si confonde un po no come si confonde un po i ruoli quindi il rapporto di coppia è come se fosse un rapporto familiare di sostegno realtà è un'altra cosa nasce da una carenza d'affetto se brutta veste la carenza d'affetto cosa comporta la carenza d'affetto a una ricerca spasmodica del contatto fisico si è anche un po ecco vedo anche questo aspetto il non voler soprattutto claudia me lo fa vedere molto bene legarsi con una persona ma non legarsi no avere sempre qualche scusante che fa sì che comunque non sia un rapporto diciamo pieno appieno ok perché potresti perché c'è la paura di poter essere lasciati rimanere da soli da un momento all'altro e quindi per difesa si rimane da soli a priori le prima diceva per non per non fare l'eremita mi accontento delle storie che arrivano in realtà è quasi come quasi l'opposto c'è cerco storie che arrivano dove non sono troppo coinvolta così se vessero finire non mi sento completamente sola ecco quindi questa cosa qua me la fa vedere molto chiara va bene la coda di scorpione è il suo progetto vediamo se la troviamo scritto nel cluster o nell'avatar nuovi allora nel cluster mi fa vedere proprio come se ci fossero tanti pezzettini di questa coda divisi sulla parete del cluster ok che sono stati sparsi per riempire tutta la parete e che in realtà sono i pezzi del del suo progetto lei si ricorda come fare e sta aprendo il portale definitivo da cui fa partire come se fosse un aspirapolvere non vacuum che blocca la elena un attimo c'è un'altra questione di claudia una smania di recuperare il tempo perso e di accelerare al massimo la sua evoluzione c'è questa necessità si era proprio che tutto cioè partendo dai cavalli iniziali ok a non poter fare c'è quando io lo vedevo che è detto corso di ballo cioè oppure andare a ballare non corso di ballo perché comunque devi ci sono dei momenti statici dove devi osservare o dove di vedere qualcun altro ballare e lei la vedevo lì no con la gamba spazientita ok perché lei deve andare deve raggiungere quella cosa e anche quella quel quadro che ha dietro di questa donna che è molto certo mi ha dato proprio l'impressione di essere risucchiata dalla frenesia che a claudia di di raggiungere in qualche maniera quello che non sa neanche lei cosa e quindi poi recuperare le energie col cibo perché lei deve essere prestante che quindi è tutto il life motive di claudia è questa cosa qui proprio che diceva avete molto chiaro ok dopo queste considerazioni cosa fa come fa come opera come agisce nello stesso modo o ha cambiato come dire stile va bene anche non cambiare stile se fosse suo se no invece che risucchiarlo ha fatto una cosa ha provato a fare una cosa un po più meno frenetica e quindi ha passato lentamente la mano come se fosse sul cluster e ha praticamente ha portato come se tutti i pezzettini della coda di scorpione fossero diventati piatti fossero diventati come una crema e li ha portati nel portale definitivo tolto le bruciole dal tavolo bene torniamo indietro lo facciamo in un altro modo sì per dimostrarle che lei crea è creatrice e fa quello che le pare quindi il tempo la fretta non è lei se si rende conto che può fare quello che le pare domani diventa una che le vita allora adesso ha fatto così e facendo così tutti i pezzi sono come rimbalzati giù da questi supporti nel muro e si sono portati automaticamente dentro il portale definitivo ma tre sarebbero a un altro paio di movimento di via torniamo indietro col pensiero li ha spostati dentro al portale definitivo proprio col pensiero immaginato di muoverli portarli e sono andati nel portale definitivo e l'ultima l'ultima si sono richiamati da soli dentro bene a avatar c'è c'è uno spicchio sulla destra lo ricreiamo integralmente vuole perché non vuole perché non ci serve ma se vuole crearlo non lo può creare pensa che ricreando lo ritorni dentro il problema forse la sua credenza era quella non è così sfida è un po titubante aspettiamo le dico anche secondo step dovrà farne cinque uguali quindi non solo re lo ricrea ma le li fa se li moltiplica sai come ha fatto allora dallo spicchio che c'era ha provato a mettere un pezzo in più e ha visto che non succedeva nulla quindi ha ricreato quello ha ricreato suo avatar e poi l'ha fatto molto moltiplicare per cinque ok adesso li mette tutti e cinque se vuole in un portale definitivo in cinque modi completamente diversi a 1 l'ha preso per i capelli era buttato dentro non l'ha preso per la coda perché la coda è iniziato a farlo roteare e poi l'ha lanciato dentro allora il terzo l'ha fatto con la mente l'ha fatto scorrere lateralmente e poi è finito dentro al portale definitivo perché il portale definitivo era laterale al quarto l'ha mandato il pensiero all'avatar di buttarsi autonomamente dentro al portale definitivo e col quinto l'ha alzato con il pensiero e lavorato dentro benissimo l'ex architetto claudia la creatrice claudia coda di scorpione esiste ancora no il due uomini del tempo il grillo del secondo universo il falco no self-control e nuvola immaginarà nuova frequenza 284 miliardi nuova consapevolezza 186 per cento anima 69 di te mille 238 cervello 9.2 suscettibilità ipnotica adesso 85 per cento ok nel cinema chi c'è ci sono quattro nipoti incuriositi ma confusi non ci abbiamo capito niente dicono vabbè e se vorranno vedrà se l'amico allora l'amico è molto consapevole di quello che ha visto consapevole della necessità del conto del distacco che gli crea un po di tristezza e mangonia ma consapevole della necessità che adesso c'è anche l'amico addio ciao sei tu la causa dei miei problemi no 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 l'ha capito claudia sai no con queste nuove condizioni la proprietà si vende più facilmente e se si a che condizioni terrene di claudia allora come se prima per far sì che non riuscisse a venderlo chiedesse eccessivamente se non so dirti se economicamente o con le condizioni ed un eccesso di richiesta no ma era inconsciamente fatto apposta per non per riuscire a non liberarsi no perché c'era questo aggancio dei ricordi in questo momento nel momento in cui lei riuscirà a mettere nella scatola quei ricordi ok proprio come se quei ricordi ci sono ok se li tiene per sé sono il suo pezzo del terreno il terreno riuscirà a venderlo a condizioni molto favorevoli per lei ma anche per l'acquirente situazione sentimentale con le nuove condizioni se verranno ovviamente mantenute certo è come se ci fosse proprio una shift no proprio come se profondamente lei potesse sentire l'amicizia profonda che c'è verso questo l'uomo ok questo amico è proprio come suo confidente fratello a rimanesse male potesse liberamente andare verso la sua vita amorosa vera per adesso vedo ancora la sua esigenza di fare un passo alla volta quindi probabilmente inizierà a scoprire anime affini e da cui troverò delle caratteristiche che la porteranno poi con verso la fiamma perfetto messaggio finale di claudia a se stessa allenati con le vibrazioni e con la natura quindi a costruire nella natura e con la natura e senti profondamente quando sei centrata che quando arriva un pensiero limitante verso la tua libertà ricordati che solo una scusa per tenerti limitata questo è un esercizio che puoi fare quando ti senti limitata cerca di ricordarti che quella è una scusa che si può bypassare tranquillamente per andare verso la tua vita come la vedi i due cavalli bianchi il carretto ma adesso non la vedo più affaticata a dover trascinare tutto con frenesi e fatica ma la vedo molto leggiadra che vola alleggerita di tutto che vola i cavalli non ci sono più no il carretto e la roba nemmeno lei vola senza pesi senza pesi con scuse no no non c'è neanche ci sono neanche le scuse ad appesantirla va bene va bene abbiamo finito erena disconnetti